A noi ci piacerebbe giocare tutte le partite nella metà campo avversari, nell'area avversaria se possibile, attaccare sempre, ma questo dipende anche dagli avversari. Anche domani vorremmo provare a giocare e fare una partita aggressiva, vogliamo farlo? Vediamo però, perché poi ci sono gli avversari che magari delle volte ti costringono a fare un altro tipo di partita. Le partite sono così, specialmente all'inizio sono un po' come braccio di ferro, poi quello che cede prima magari si ritorna in una metà campo o nell'altra, però dobbiamo resistere, stare lì e fare la nostra partita. Vogliamo crescere, è chiaro che la partita di domani è la partita più difficile che poteva capitarci in questo momento, però il calendario ha voluto così e andiamo lì per giocare. Non vincere facile, a Torino non è mai stato facile neanche per il Mila di Sacchi, per il Mila di Capello, insomma si andava a vincere qualche volta, ma sempre con grande fatica, se non giocavi bene, se non facevi delle grandi partite non vincevi, a Torino è così, come per loro è la stessa cosa. Non lo so, sulla carta può darsi che sia così, che possa essere più facile di testa, però non credo sia proprio così, insomma la partita è sulla carta difficile, lo sarà sul campo, però noi siamo pronti per battagliare.